buongiorno a tutti e benvenuti sulla mia pagina creativa benvenuti a casa di paola la casa di di paola allora per realizzare il progetto che avete visto in anteprima dobbiamo procurarci 100 grammi di lana da lavorare con l'uncinetto del 2 e mezzo poi una forbice e dei marca punti vi faccio vedere in questo tutorial sarà duplice nel senso che vi farò vedere come realizzare le calze in due modi diversi allora questo che vi faccio vedere nella prima parte ci sarà il tutorial con le calze realizzate senza cuciture quindi in un pezzo unico mentre invece nella seconda parte vi farò vedere come realizzare le calze però effettuando delle cuciture perché allora perché per le calze ho cercato delle tabelle su internet per le misure ci sono sì le misure del piede in centimetri per diciamo per le scarpe no che decodificano la lunghezza della scarpa ma in realtà la larghezza non si trova quindi per le scarpe da donna insomma io ad esempio quelle che sto che vi faccio vedere adesso sono un numero 37 e le sto facendo per la mia mamma perché dice che ha sempre freddo il piede quindi per le calze da donna sono andata l'ho provate io io porto il 36 e quindi più o meno mi sono regolata ma siccome le vuole anche mio papà e mio papà ha il piede più lungo sinceramente ho avuto qualche difficoltà perché non per la larghezza siccome lui non è vicino a casa mia ho preferito optare per il secondo sistema con la cucitura in modo da eventualmente poterla stringere dunque vabbè per partire con l'uncinetto due e mezzo con la mia mano bisogna montare 27 catenelle devono essere sempre il numero pari più 1 quindi 22 24 26 più 1 quindi diventano 27 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 ok a questo punto faccio nella prima maglia una maglia bassa ora io ho necessità di avere questa treccia da lavorare quindi giro il lavoro e mi infilo in questo punto vedete la treccia rimane sotto quindi farò gli altri punti in questo modo vedete spero che si veda dove mi filo nella parte posteriore dove c'è diciamo il filo di giunzione tra una treccia e l'altra 4 5 6 7 6 6 6 7 8 8 9 9 10 9 10 e così via fino alla fine e quindi ho montato 26 maglie e così via fino alla fine e quindi ho montato 26 maglie più una quindi devo avere 26 26 maglie basse ok come vedete io ho finito il giro vedete che da questa parte c'è la mia treccia diciamo superiore della maglia bassa e dietro c'è la treccia dell'avvio mi servirà poi a questo punto cosa faccio continuo facendo la maglia bassa quindi una catenella e lavoro le maglie così come si presentano tutte tranne una dovrò diciamo non lavorare saltare l'ultima maglia e questo lo dovrò fare fino ad arrivare alla metà delle maglie di partenza quindi io ne avevo 26 devo arrivare ad avere 13 maglie quindi lavoro tutte le le mie maglie basse ok e praticamente faccio delle diminuzioni non saltando mi diminuiscono saltando l'ultima mi diminuiscono le le maglie allora un'altra cosa che vi serve non so se ve l'ho detto prima sono uno o due marker dipende da come siete comode voi io ne ho utilizzati due per semplicità ogni tanto mi sposto io involontariamente con l'incuotatura allora continuiamo a fare e stiamo lavorando in questo momento la punta della calza questa misura deve corrispondere alla larghezza del vostro piede perché noi stiamo diciamo alla misura della calza questa cioè noi stiamo partendo vi faccio vedere da qui stiamo facendo da qui stiamo andando in giù quindi le maglie di partenza devono essere questa larghezza solo la metà non tutto è la metà non tutto tutto il perimetro della del vostro piede quindi vi misurate e calcolate la metà continuiamo io faccio maglie basse e l'altro punto di lavorazione della calza e la mezza maglia alta poi c'è il bordino che è fatto con una maglia alta presa davanti vedete che ho saltato 1 ok faccio una catenella ricomincio e continuo a lavorare così saltando l'ultima maglia quindi torno indietro prima dell'ultimo appunto basso giro lavoro fino ad arrivare io sono partita con 26 maglie devo arrivare con 13 maglie allora continuo un po' al lavoro ci vediamo più in là bene allora come vedete io ho fatto tutte le mie diminuzioni a questo punto dovremmo fare gli aumenti per ritornare a questa larghezza che è la larghezza del piede vi faccio vedere quindi comincio con la mia maglia bassa e lavoro punto su punto i punti come si presentano ok continuo fino alla fine a questo punto quando arrivo alla fine sono arrivata all'ultimo punto devo chiudere il punto a me facendo un aumento e chiudendo in due la calza quindi cosa faccio entro con l'uncinetto di lato entro non chiudo vedete ho due punti e chiudo i punti insieme a questo punto giro e ricomincio la mia rega ok e lavoro sempre punto su punto ok arrivo all'ultimo faccio lo stesso lavoro entro entro vedete in questo punto che è la metà del punto basso sottostante prendo il punto basso iniziale e chiudo e chiudo assieme così aumentato di un punto vedete che comincia a girare a chiudersi ripeto questo lavoro fino a ritrovarmi di nuovo a 26 maglie ed arrivare alla sommità della calza allora faccio questo lavoro per non lasciare buchettini laterali ci vediamo a lavoro un po più avanzato bene vi faccio vedere vedete come si chiude man mano che si lavora e si forma questa punta qui vedete questa punta ok ok adesso finiamo i giri per chiudere tutto e poi vi faccio vedere come proseguire bene vedete sono arrivata alla fine del giro non mi attacco con nessuna maglia bassissima ricomincio dalla mezza maglia alta così senza interruzioni metto il marker per ricordarmi qual è la maglia d'inizio e lo sposterò man mano proseguo così fino a due centimetri prima del tallone ci vediamo più avanti ok come potete vedere siamo arrivati a due centimetri dalla dal tallone che è qua spero che si veda a questo punto togliamo il marker e vediamo la nostra metà piegando il lavorato che è qua e l'altra metà del lavoro è qua ok quindi in questo punto e in questo punto faremo un aumento per due giri consecutivi poi lavoreremo per un giro le maglie così come si presentano dopodiché attaccheremo a fare il tallone quindi quindi io sono qui ok ok faccio un'altra mezza maglia alta nello stesso punto proseguo poi il lavoro con tutte le maglie così come si presentano qua qua ci metto un marker per quello che avevano detto di usarne due perché devo segnare le due maglie fatte nello stesso punto ok faremo la maglia alta doppia sul secondo momento non sulla prima maglia dell'aumento ma sul secondo ok proseguiamo ok andiamo avanti allora di difficoltà in realtà non ce ne sono molte la punta verrà lavorata cioè il tallone verrà lavorato esattamente come la punta quindi con lo stesso principio delle diminuzioni e poi degli aumenti allora ecco qua tolgo il marker faccio il mio aumento quindi prima maglia seconda mezza maglia alta rimetto il marker su questa maglia che è la seconda dell'aumento dovrò fare l'aumento anche nel giro successivo dopodiché lavoro le maglie così come si presentano continuo e ci vediamo per fare il tallone bene bene allora sono arrivata a fare a finire e terminare vedete i due aumenti ora quello che dobbiamo fare è mettere i due marker e lavoreremo le diminuzioni e gli aumenti come abbiamo fatto per la punta quindi fino solo metà per volta scaliamo e poi aumentiamo ci rivediamo a tallone chiuso e quindi tornaremo che Grazie a tutti